Oltre 2000 persone hanno affollato il palatenda di Brolo sabato sera per il Carnival Party che ha visto come ospite d'eccezione il rapper Shade. Un'ora di show in cui tutti i presenti hanno ballato e cantato le conosciutissime hit Bene ma non benissimo, canzone da 50 milioni di views su YouTube e doppio disco di platino, la hit dell'estate senza farlo apposta portata a Sanremo 2019 insieme a Federica Carta e l'ultimo successo all'ora ciao. Classe 1987 il rapper piemontese ha infiammato il palatenda anche con una gara di freestyle in cui ha sfidato il messinese Yabascar. Mi sono divertito tantissimo, una serata molto bella, soprattutto un pubblico molto bello ma proprio anche bello da vedere oltre che da sentire delle belle facce, molto empatico mi sono divertito un sacco. Un grande successo per Brolo, per il paese di Brolo e soprattutto un grande spettacolo di Vito Shade. Siamo soddisfattissimi, le presente sono state più di 2000, una grandissima serata, speriamo di riperci l'anno prossimo.